A volte ritornano non è solo il titolo di un romanzo di Stephen King, ma anche la solita musica che il meetup del Movimento 5 Stelle di Polistena orchestra ogni tanto. Come qualche tempo fa sull'isola ecologica, l'inutile spunto polemico stavolta è stato costruito su una appaventata richiesta di alcuni atti alla quale non si sarebbe dato seguito. Falso, gli uffici competenti hanno risposto con noto ufficiale del 1 agosto 2017 ed esaudito laddove possibile le richieste della parlamentare europea grillina Laura Ferrara e il sindaco di Polistena Michele Tripodi a parlare dopo l'ennesima polemica tra la sua amministrazione e i grillini locali sostenuti questa volta dall'eurodeputato 5 Stelle Ferrara. L'eurodeputata aveva richiesto di acquisire il regolamento per la gestione dei servizi idrici e fognari e le copie delle analisi dell'ultimo quinquennio certificanti lo stato di salute delle acque di scarico a monte e a valle e dell'impianto di depurazione. Il sindaco piccato risponde e certo non le manda a dire rispondendo punto su punto alle sollecitazioni dei 5 Stelle. Vogliamo ribattere che l'amministrazione comunale di Polistena, scrive Tripodi, è una delle più trasparenti esistenti nella Calabria e siamo preoccupati per questo inspiegabile accanimento contro una delle più importanti e significative esperienze istituzionali in controtendenza rispetto ai poteri dominanti. Prova ne siano i numerosi regolamenti comunali esistenti messi a disposizione online e non solo per i grillini ma per tutti i cittadini pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale. Inoltre il meetup locale dovrebbe sapere, bacchetta il sindaco, che il depuratore comunale è stato dismesso diversi anni fa e che al momento i dati richiesti sulla depurazione possono essere forniti solo dalla società consortile presso la quale il comune è convenzionato, così come tutti o quasi i comuni del comprensorio, ovvero la società IAM. A tutte queste informazioni già contenute nella nota del 1 agosto, dice ancora il sindaco Tripodi, trasmessa alla parlamentare Laura Ferrara, aggiungiamo che pure i dati del serbatoio di Monte possono essere forniti dal gestore, la Sorical, che esegue analisi periodiche sulla potabilità dell'acqua. Ora, continua il primo cittadino polistenese, davvero non comprendiamo l'iniziativa dei grillini, i quali probabilmente difettano di comunicazione interna, che rinunciano ad attaccare i loro veri antagonisti istituzionali, per accanirsi viceversa contro il sottoscritto, che tempestivamente ha esortato gli uffici, come poi è stato fatto, a rispondere alle richieste. Se poi l'obiettivo è quello di creare allarme ingiustificato tra la popolazione circa la potabilità dell'acqua, cogliamo l'occasione per ribadire che l'acqua fornita e distribuita dal comune è monitorata continuamente, anche da analisi compiute presso pozzi, serbatoi, scuole e fontane pubbliche. Pertanto, chiuse il sindaco, le critiche avanzate dei 5 Stelle, che farebbero meglio ad attenzionare quei comuni dove non funziona nulla, sono squisitamente strumentali, anzi qualificano ancora una volta la miopia politica dei protagonisti fantasmi di questa stopposa, nuova, inutile polemica.